Getto natissima dalle scuole che hanno subito esaurito le lezioni mattutine disponibili, nell'ambito di BIA Natale da fine novembre a fine gennaio, in piazza San Giovanni Abustarsizio tornerà la pista di pattinaggio su ghiaccio, grande 30 metri per 12, con una novità. La domenica pomeriggio infatti, quest'anno Babbo Natale, Elfi e altri personaggi natalizi daranno spettacolo sui pattini. Abbiamo in programma di creare degli spettacoli apposta con atleti federali della nostra scuola e con i nostri istruttori che poi si renderanno disponibili anche per corsi e lezioni.